Il lunedì parleremo di sport in una sorta di aperitivo in questo caso di nome di fatto a quella che sarà poi la nostra trasmissione delle 23 Futura Golle in cui parleremo di calcio ma noi in questo spazio vogliamo parlare di tutto tranne che di calcio e quest'oggi lo faremo con un grande sorriso perché parleremo di pallavolo e parleremo anche di una bellissima vittoria avrete capito di cosa sto parlando parleremo della Saturnia e qui con noi abbiamo il presidente della Saturnia Volley che ha riportato la grande pallavolo a Catania dopo 27 anni Luigi Pulvirenti che saluto Buonasera Alessandro e grazie per l'invito Allora istituzionalmente dovremmo darci del lei ma è un po' difficile tra di noi quindi diamoci del tu come facciamo normalmente nella vita quotidiana E allora Luigi io poi stasera alle 23 dovrò parlare di calcio e di qualcosa in questo momento che non va bene come il Catania calcio che arriva da una sconfitta invece oggi voglio e con te voglio sorridere perché dopo la partita di Perugia e un po' ve l'aspettavate Ieri in un pala a Catania che non era completamente gremito e ora ne parliamo anche di questo è arrivata questa bellissima vittoria per 3-1 e rimonta contro Cistenna in uno sconto diretto vero e proprio Possiamo dire che è cominciata questa superlega ecco dopo l'antipasso di Perugia è cominciata ieri Secondo me invece è giusto dire che è cominciata con la sconfitta di Perugia perché ci sta e noi siamo anche consapevoli che potranno esserci altre domeniche come quella di Perugia quando incontreremo squadre attrezzate per disputare nell'ambito della superlega un altro campionato rispetto a quella a quale partecipevamo noi che è quello della salvezza Potremmo anche perdere nettamente come è capitato domenica scorsa a Perugia seppur poi ad esempio nel terzo set mettendo in mostra un livello di gioco che ci ha consentito di essere competitivi fino alle battute finali del set Con l'importanza da riconoscere ad un fatto che anche dopo una sconfitta netta il martedì è importante tornare in palestra ripartendo da quello che di buono si è fatto anche alla sconfitta Come ha fatto la squadra questa settimana nella settimana appena trascorsa che è stata una settimana profigo di lavoro molto intenso anche di capacità di lavorare su quelli che erano stati i limiti maggiormente visibili a Perugia Per esempio sicuramente in battuta qualcosa nella correlazione muro difesa che sono stati registrati che poi ieri ci hanno consentito invece di esprimere una palla a volo di buonissimo livello Io direi anche a partire dal primo set seppur perso comunque già si era visto che la squadra era scesa in campo con una consapevolezza diversa Poi sicuramente avrei vinto avrei vinto in questo modo con un punteggio pieno, tre punti dà una grande iniezione di fiducia per quello che sarà il proseguo del nostro campionato E stiamo vedendo anche, ringrazio la regia, possiamo lasciarle le immagini della partita di ieri, questo primo set che è andato tra l'altro un palcoscenico importante quello del Palacatania La diretta televisiva sulla Rai e questo era importante pure, dopo il primo set poi è stata una cavalcata vincente Parliamo del Palacatania, c'era tanta gente però forse ce ne aspettavamo qualcosa in più per il ritorno in Superlega Sicuramente l'orario non ha creato le condizioni migliori perché ci fosse il grande pubblico, ha inciso in questo Però è anche vero che la diretta sul Rai Sport è stata il riconoscimento dell'importanza storica della giornata per noi come società Perché si trattava dell'esordio in casa in Superlega e in generale per la nostra città, per il nostro territorio Che appunto come hai ricordato bene tu prima, tornava della massima serie dopo 26 anni Forse secondo te Catania, la provincia, si deve riabituare alla grande pallavolo Perché Catania è una città storicamente innamorata Io ti dico che i dati della campagna sia abbonamenti che dello sbigliettamento della partita di ieri Ci dice che quasi il 50% degli abbonamenti dei biglietti è stato sottoscritto fuori dalla provincia di Catania Questo è un dato molto importante perché vuol dire che c'è grande attenzione in tutta la Sicilia E noi questo non soltanto lo sapevamo Ma abbiamo sempre detto che a noi piacerebbe essere un'opportunità per tutto il movimento pallavolistico siciliano E non solo, ovviamente anche per i tantissimi appassionati di pallavolo pur non praticandola Per poter tornare a godere dello spettacolo della Superlega Perché al di là dell'aspetto più agonistico Da molti anni a questa parte la Superlega è uno spettacolo che ospita dentro un evento sportivo di altissimo livello E sicuramente Catania, c'è una cosa da dire, c'è un po' di scetticismo Ma probabilmente legato al fatto che il doppio salto di categoria è stato magari considerato da qualcuno Più o meno dell'ambiente pallavolistico, con un passo più lungo della gamba Ma in realtà non l'abbiamo fatto soltanto perché c'erano le condizioni economiche, organizzative, logistiche Per poterlo fare perché c'erano posti Ecco io lì ci volevo arrivare, ci sei arrivato, ci sei arrivato tu Quindi prendiamo questo argomento Finisco la seconda parte del discorso C'è un po' di scetticismo E poi c'è anche un'altra cosa che dobbiamo ricordare Che essendo uno spettacolo che mettiamo a disposizione del pubblico Ma che comporta tanti sacrifici ovviamente per la società Io dico che è anche giusto, può sostenere lo sforzo che fa la società Quindi bisogna portare, un po' come capita nel calcio, 90 anni a questa parte La cultura di sostenere la propria squadra locale pagando il biglietto d'ingresso Ecco questo tipo di cultura si deve affermare anche nella pallavolo Non fosse altro che per il fatto che la nostra politica di prezzo dei biglietti È in assoluto la più bassa della Superlega Di gran lunga la più bassa della Superlega Sfidante in qualche modo anche quelle che sono Non dico le direttive, però un po' l'idea che bisogna dare valore al campionato E quindi mantenersi su un certo livello di prezzo del biglietto Noi ovviamente non l'abbiamo fatto essendo soltanto il primo anno Garantendo biglietti molto popolari E quindi adesso è importante che essendoci finalmente la possibilità di tornare a godere dello spettacolo Superlega Ci sia anche la risposta da parte della città Dando un contributo che poi è sostanzialmente equivalente al costo di un panino E nemmeno la seduta Di un panino nei famosi carrozzoni Catania lo può fare, io ho visto settimana scorsa le immagini della partita di Perugia C'era a Perugia una bolgia Perugia è una città che arriva a quel livello di coinvolgente della Padovolo Con un percorso che dura da più di vent'anni Partita addirittura dalla B1 Da Bastia Umbra, un piccolo centro vicino a Perugia Quindi un po' se vogliamo fare il parallelismo tra Cicastello e Catania Però certamente l'idea che si possa arrivare a quel livello di coinvolgimento e di passione Poi per quanto riguarda l'aspetto risultati Quella è legata ovviamente alle risorse Catania ce l'ha quel livello di passione? Ce l'ha però Allora forse un bel livello è troppo indietro nel tempo Però deve riuscire a metterlo in campo con continuità Perché si può essere appassionati sulla singola partita Quando si gioca contro la squadra forte Ma quello che rafforza un progetto societario È la consapevolezza di avere uno zoccolo duro e importante Di tifosi che ti sostengono nel corso di tutta la stagione E un po' anche a prescindere dai risultati Che ovviamente però rimangono la benzina principale dell'entusiasmo Inevitabile, inevitabile Parlavi prima e facevi un accenno alla decisione che avete preso quest'estate È arrivata questa possibilità Ci avete pensato, ci avete riflettuto 48 ore 48 ore, ecco non di più Me lo ricordo perfettamente E poi avete deciso proviamoci, facciamocelo Cosa è successo in quelle 4 ore? Era tutta una questione economica oppure c'è altro? Noi come società già l'anno scorso Avevamo sviluppato un processo di strutturazione Perché l'obiettivo era quello di arrivare in Superlega Ovviamente non nelle 48 ore In cui poi abbiamo deciso di farlo nello scorso maggio Ma nell'arco di qualche stagione E partendo dal presupposto che i progetti che durano nel tempo Sono quelli solidi La solidità innanzitutto è quella societaria Partendo dalla solidità societaria Poi si costruisce il progetto tecnico E la solidità di un progetto tecnico Quindi noi come società eravamo abbastanza strutturati Sapevamo di dover fare ancora ulteriori passi di crescita E che abbiamo fatto in realtà in questi mesi Ma altre ancora dovremmo farne Avevamo già non soltanto il sostegno Per una 2 di buon livello Da parte dei nostri sponsor storici Ma avevamo già cominciato a parlare Con alcune realtà industriali molto importanti A nostra città Che avevano manifestato la loro intenzione Di sostenerci nel percorso in Serie 2 Quando è arrivata questa proposta Il primo confronto è stato con Farmitale E con Fabio Scaccia E devo dire che ovviamente il suo Buttare il cuore oltre l'ostacolo Davvero in 36 ore è stato determinante Perché non so quanti imprenditori E quante aziende avrebbero avuto la capacità E la volontà di direi quasi triplicare L'impegno economico in 36 ore Perché di questo nei fatti si è quasi trattato E ovviamente questo tipo di partecipazione Questo tipo di disponibilità Ci ha dato la sicurezza iniziale Vuol dire ok Fatto 100 il budget necessario Perché ci vogliono tanti investimenti Diciamo a chi ci ascolta Io vi dico subito che noi quando abbiamo Detto di sì Quindi abbiamo riscontrato positivamente La proposta arrivata Arrivataci dal presidente della Lega Pallavolo Massimo Ricchi Abbiamo detto sì Perché avevamo il 75% del budget sottoscritto Quindi non è stato un discorso Armiamoci e poi partiamo E partite e poi si vede C'è un po' una cosa che ogni tanto a Catania Viene tentata Noi abbiamo deciso di metterci in questa impresa Perché avevamo tre quarti del budget sottoscritto Devo dire che la risposta del tessuto Impenditoriale della città Al di là di Farmitalia è stata straordinaria Perché se mi consenti di citarlo Di citarle grandi aziende Come Funivia dell'Etna Coselli Mi stanno vicino Petrol Company Geotrans Il gruppo Arena Abbiamo visto la maglietta Ieri è bella piena Esatto Un'istituzione bancaria importante Come Banca del Fucino Ma anche tante Medio-piccole realtà del territorio Che sono le eccellenze Nel Nel loro settore di attività Sono coinvolte nel progetto della Saturnia E questo ci dà anche un po' La serenità di poter pensare in prospettiva Perché se saremo bravi Con i risultati ovviamente Ma anche con la capacità organizzativa Di far bene quest'anno Io credo che il rapporto con i nostri sponsor Che non sono degli sponsor E basta Sono a tutti effetti coinvolti nel nostro progetto Dei partner potrà soltanto crescere Crescendo potrà crescere anche la qualità Del progetto tecnico Che noi abbiamo in animo di sviluppare Abbiamo due minuti In 30 secondi Mi dici cosa è successo con Cantor Se si può dire Assolutamente No, certo Lo abbiamo anche detto Nella conferenza stampa di presentazione Al nuovo allenatore Noi con Cantor Con Baldo Che insomma Al quale comunque Mi legano sentimenti di affetto E di stima e di amicizia Non è storico Che sono rimasti assolutamente inalterati Avevamo condiviso a partire dal 2021 Un progetto tecnico Che ci ha consentito in due anni Di crescere come società E di raggiungere un obiettivo intermedio importante Come la proporzione in E2 L'anno scorso Al termine della stagione In coincidenza col periodo No della squadra Le famose cinque sconfitte consecutive Era nata qualche diversità di vedute Dal punto di vista tecnico Che poi arrivata la proposta di Superlega Abbiamo deciso di mettere da parte Pensando di poter continuare insieme Però in realtà Queste diversità di vedute Si sono riproposte Nel corso della preparazione Soprattutto rispetto all'idea Di come vada gestito Un gruppo Che non è soltanto composto Da sei giocatori Ma sono tante risorse Che vanno tutte utilizzate Perché tutte saranno utili E saranno importanti Per raggiungere il nostro obiettivo stagionale Quindi non c'è stata più Identità di vedute Su questo Quindi sulla conduzione tecnica della squadra Io ritengo che la responsabilità Di una dirigenza Sia quella di assumere Le scelte che ritiene più giuste Nel momento in cui si palesa La necessità della scelta Senza dilungarsi Senza attardarsi Senza perdere tempo inutilmente Se ovviamente la scelta è stata Messa a fuoco Poi ovviamente ci si assume La responsabilità della scelta Ed è quello che noi faremo Il presidente lo farai Consegnandoci a responsore del campo Che è un baglio insindacabile Ed è responsore del campo Finora ha detto Che dopo Perugia Ieri è arrivata una vittoria Credo sia fondamentale Anche se alla seconda giornata Contro Cisterna Magari che avessimo vinto contro Perugia E vabbè Poi a poco a poco E' finito E' volato il nostro tempo Ma ritorneremo a parlare di Saturnio Magari anche con Luigi Pulpirenti Con grande piacera Con qualche altro componente Dello staff Con qualche giocatore Sai che ce n'è uno A cui sono parecchio legato Per motivi familiari Che ieri ha fatto una partita Incredibile Sto parlando di Luigi Rendazzo Che conosco fin da quando è bambino Ma ne parleremo Luigi Pulpirenti Grazie Grazie a voi Grazie Grazie a Luigi Pulpirenti Io vi ricordo Alle 23 Torniamo a parlare di sport Ma di calcio Con Futuramore Grazie per averci seguito